Assessore, domenica a Chieti si terrà un'importante manifestazione di padel, lo sport del momento. Assolutamente, lo sport del momento che è increscendo sui giovani ma non solo. Noi come amministrazione abbiamo dato la massima vicinanza ai titolari della struttura, sia per quelli che sono stati i lavori che hanno portato alla realizzazione di questa struttura, semplificando nel più possibile l'interburocratico, sia di vicinanza concreta a questo torneo, anche poi in prospettiva di quello che sarà un ingresso del padel all'interno della FIT, e insomma anche a livello federale siamo convinti che questa struttura possa essere per la nostra città un ulteriore riferimento sportivo importante sul panorama regionale e non solo. Andiamo fermamente in una valorizzazione dello sport, con la federazione pallamano abbiamo dato vita al centro tecnico federale presso la nostra struttura del Pala Santa Filomena, crediamo molto nella collaborazione con realtà che intendono investire nella nostra città. Dobbiamo ringraziare il nostro assessore Emanuele Pantalone che è stato da subito sensibile a dare a questa città una spinta forte su quello che io chiamerei il turismo sportivo, perché lo sport oltre a essere una necessità per i cittadini di Chiedi, che storicamente è una città che ha molto dato allo sport nazionale con una sua tradizione proprio negli sport, quelli tipici, parlo calcio, parlo canestro, oggi si proietta invece come città innovativa per i nuovi sport come quello di aver fatto venire la federazione italiana pallamano ed essere la città che per prima organizza un torneo di padel.